Oggi siamo alla BMT perché siamo qui per promuovere i nostri servizi come Decathlon Club, servizi rivolti alle aziende, alle pubbliche amministrazioni e alle scuole. Vogliamo mostrare e far conoscere i nostri prodotti e servizi, il nostro servizio noleggio, la riparazione, il second hand e tutta la parte di personalizzazioni, le agevolazioni che possiamo fare per i nostri clienti. In ogni negozio è possibile trovare un team dedicato pronto a soddisfare le esigenze di ogni singola persona e ogni singola società. Abbiamo una piattaforma esperienza sportiva che vuole far praticare sport alle persone e vuole rendere accessibile e piacere benefici dello sport a maggior numero di persone. Curiosi di conoscere di più? Visitate il sito Decathlon Club e il sito decathlon.it